allora buon pomeriggio bella a tutti come dice il nostro amico giuse 360 e come dice sempre lasciate un like iscrivetevi al canale e poi siamo andati così ragazzi come avete notato sul giornale io cosa leggo qua la reggiana vola in serie b allora carbo devastante il bari recrimina sul pari annullato antenucci gol vizzato dal top il comito i uomini albini prendono due pali ragazzi la regione ha meritato secondo me chi sa di riservi e io sono sono veramente con me la sono vista una partita qui al computer messo tra l'idea comunque la rai play mi sono collegato rai sport niente sono sono veramente soddisfatto della partita giocavamo bene soprattutto il primo tempo primo tempo assai partita diciamo in questo senso qua poi è arrivato fuori la reggiana nella ripresa e c'è dopo cinque minuti siamo in vantaggio 1 a 0 1 a 0 per noi e bari ha reagito e ha pure fatto l'opera i gol viene annullato per qualche utilizzo oltre i codi o fuori gioco perché secondo me chiaramente non è che è stato un grande come partita comunque partita molto sofferta soprattutto nel primo tempo e secondo tempo siamo riusciti riusciti a fare una ottima partita che comunque abbiamo pure pensato tanto in ciavole della reggiana è un'unque l'idea bari i bari poi farsi prossimo la prossima stagione il prossimo anno volevo dire la prossima stagione comunque cambia veramente più in poco io penso che solo sono veramente contento e questa bellissima serata che abbiamo passato tranquillamente a casa nella mia tv privata e anche che dire non c'è niente non c'è niente da dire sono veramente contento certo che in bari la reggiana devono un tempo ha avuto pure nelle sue occasioni e detto comunque vicini adesso a volte in due o tre circostanze mi sembra tre circostanze e grazie del supporto comunque va bene così sono contento va bene c'è poco c'è poco da fare comunque ragazzi io vi lascio adesso questo è un video così in pochi minuti non voglio dilungare dal tutto è comunque è stata una bella serata una bella immagine che ho visto proprio anche l'alzare la coppa al cielo meno male che è stato una cosa potente il video di 16 termina qui il video pure vi lascio ciao ragazzi alla prossima fate i bravi